Gaina contro Kaga! Polle! Mirror Match! Conoscenza e potere. Cacchio! Sono sicura che ci divertiremo. Che stufia che ne ho! No, a me di velo potremmo tenere. Ci spacca lo scienziato e almeno giochiamo qualcosa. Sì, ma cerchiamo di vederli i secret. E queste so che parite sono. Sono le parite in cui non vedo secret fino a turno 5-6 quando ho in mano tutte carte che richiedono un secret. e quindi... ...perdo. Oh! Miracolo! Conquasi giocarlo per essere d'antice. E' stato ovviamente un po' meglio vedere il gioco della fiera. Eh, va bene, va bene. Va bene. Era proprio quello che volevo fare. Scusate, avete chiuso a prendere? Lo sicuramente si dovrà. Venga, vai. Non è male questo gioco alle volte. Non è male. Gaina contro... Xirella! Ovviamente... ...iluminerò la via. Non ho beccare Priest perché Priest deve rompere le palle. È proprio la prerogativa del Priest. Io gioco per rompere le palle. Non dico tanto, ma non si. Magari il gioco ho truccato... ...la fiera di porco Giuda. Zero. Zero, sì. Mamma mia. Mamma mia. Questo lo so, questo è... ...o è Lander o è Big? Non so. E' Lander. Cosa cosa aspettare? Oh, incredibile. No, questo è lo gioco. Perché se lui gioca a lettura della mano... ...sa un meno grosso come una casa. Gioca a lettura della mano. Gioca a palm reading, per favore. Mi rendi... No. Vabbè. Diciamo che ci può stare. Tutto sommato. Così, eh. Trebbe quasi starci. Questo non mi piace proprio per niente. Però a fortuna abbiamo Fireball. Io te lo spacco. Stai zitto. Perché do giocare a sti punti? Un sì. Dander, no? Sì. Cacchio, mazzo. Perché sì. Carina questa cosa. Carina. Giocava anche quella in top deck. Così pensavo... Ehi, che culo, l'ha toccato. Eh, ha vincito l'ho in top deck. Però potessi giocare un minion ora? Eh, tipo questo. Che fa male. E te lo spacco il suo power. Un bel sito, magari un altro capo. Le nostre case. Le nostre fonde. Sarebbe stato forte. Non lo facciamo. Siamo scoperti. Basta fare masse istiria, isteria. Sarebbe stato ancora meglio. Ma, d'altronde, non si può avere tutto. No, mi tocca fare così. Perdo un pezzo. E poi lei perde, almeno questa. Per me questo. Porco di sciuta. Lo set. Picchio. Non la gioco, la mano. Non la gioco, non la gioco. Vabbè. E fin lei... Vabbè. Ci sta. E infatti, scoprimi qualcosa di forte. Devo giocarlo. Siete pronti per questo? Allora, il gioco della fiera. Presto. Così. Lo set. Muore. Eh sì, mi spiegherò. Non sto un po'. Le nostre tombe. Sia, mi serve qualcosa per counterare. Una counterspell o... Eh, quello che mi serviva. Cristoforo. Vabbè. Almeno peschiamo tre. Che è buonissimo. Questo match mi prende per snervo. Ora, perché... Io andiamo avanti. Io rompere le palle. L'ho trovato io prima. Sicuramente... Ho un'intenzione di ingannarti. Ho un'intenzione di ingannarti. Ho un'intenzione di ingannarti. C'è questo, questo per sé. Io per scaricare l'altro, aspetta. E che porco giuro. Vabbè. Male che vada. O bene che vada. Peschiamo tre. Ecco, questo non so... Non è male. Non è male. Perché ora c'è buona salute. Non è male. Non è male. I danni abbiamo in campo 12. 12. Credo che sia... Tecnicamente vinta, no? Tecnicamente. No. Non è... Porca. Ah, perché no, scusa? Perché no? Sei danni. Ah, perché costa... 12 danni di sparo. Perché mi sto fare tutte le... Perchè gli strani? L'ho trovato io per me. Ti tengo d'occhio. L'ho trovato io per me. Ti tengo d'occhio. No, ma che mancava due. Spero di non aver fatto male... Non aver fatto male i calcoli, ragazzi. Scusate, avete preso fuoco? Non vale neanche la pena ricaricarsi. Trovare a fare un pezzo. Di cosa sono capace? Ti ho in palmo di mano. Eh, ti ho in palmo di mano. Io avrei voluto una counterspell. È da ventordici turni che guarda una counterspell. E non ce l'ho. Vabbè. Fondamentalmente ne ho sbattato le dalle. Ma sì, evoca quanti pezzi vuoi. Poverino. Poverino. Non mi spiace. Oh, però, minchia. Una volta. Dopo Eoni. Che vinco contro Priest. Nonostante lui abbia messo giù 94 taunt. E meno male che abbiamo fatto i turni prima. Perché se no, ha sti pu... Noi. Noi. far information che finisce in Noi. Ehi. Noi. weise. Grazie per la visione!